Dottor Agostini, aumentano i positivi al coronavirus così come gli accessi nelle strutture ospedaliere. Abbiamo sbagliato qualcosa in questi mesi? D'altronde una seconda ondata di contagi era prevista? Sì, la seconda ondata epidemica che si sarebbe presentata in ottobre era prevista, fa parte della storia naturale della pandemia. Questo è un virus che in estate ha fatto più fatica a circolare, primo perché si sta in ambiente aperto, poi secondo perché gli elementi naturali lo staccano il sole, che in genere è un disinfettante anche naturale, e però con l'autunno era già nella carta l'ipotesi, anzi quasi la certezza, di una seconda ondata epidemica. C'erano sei mesi sicuramente per attrezzare qualcosa, sicuramente è stato fatto anche perché nessuno è stato con le mani in mano, però evidentemente questa ondata ci coglie ancora comunque impreparati rispetto a determinate situazioni. Vedi appunto le risorse nell'ambito della sanità pubblica, il personale da dedicare in una funzione che è fondamentale, quella del tracciamento, cioè il tracciamento dei contatti e il tentativo di isolare quelli che sono i contatti. E questo va in crisi se non hai le risorse umane per poterlo fare. Come vanno in crisi se tu hai non mobilitati in maniera adeguata quelle che sono le strutture di pronto soccorso, di posti letto e in rianimazione. È stato fatto qualcosa, probabilmente però rispetto a quelle che erano le carenze sanitarie croniche per i disinvestimenti che ci sono stati nella sanità pubblica, probabilmente non sono ancora sufficienti a poter garantire un adeguato rapporto tra la domanda di assistenza e l'offerta sanitaria. Quindi questo è un problema, è un problema che mette in crisi tutto il sistema sanitario. Si poteva forse incentivare di più la presenza di operatori sanitari per i tracciamenti, che sono un elemento fondamentale, magari prendendo, non so, ragazzi che studiano medicina, neolaureati o comunque qualcuno da formare in questi mesi per poter garantire un'adeguata funzione di tracciamento dei contatti. Che vuol dire, quando c'è un malato, cercare di capire quali sono i suoi contatti, telefonare, parlare con i contatti stessi, dare assistenza a domicilio a queste persone in modo tale che non si sentono sole e ad abbandonate. Quindi occorre una struttura, un qualcosa che venga organizzato in modo tale da poter essere ben presente rispetto ai problemi. Chiaro che richiede personale, personale che sia in qualche modo formato. Dall'altra parte, questo vale per tutta la filiera da un punto di vista socioassistenziale, come per esempio i trasporti. È chiaro che se io riduco l'attività scolastica perché mancano i trasporti, forse si doveva programmare meglio questa cosa? Era impossibile realizzare degli ulteriori mezzi in modo tale da garantire non un affollamento dei mezzi pubblici? Queste sono delle domande che chiaramente ci si pone. Quindi da un punto di vista organizzativo c'era da fare, sicuramente è stato fatto, probabilmente era difficile fare di più. Che cosa ne pensa dell'ultimo DPCM? Contiene enorme limitazioni giuste o troppo restrittive? Queste sono le conseguenze di un'inadeguatezza da parte del sistema, del sistema socio-sanitario nel poter dare risposte. E' chiaro che quindi si punta molto su quello che è il comportamento delle persone, il comportamento individuale, facendo fatica ad agire su quelli che sono gli elementi strutturali. Quindi gli ampliamenti delle risorse in ambito sanitario, posti letto per medici, infermieri e quant'altro. Allora che cosa si agisce su tentare di limitare la diffusione del virus? Che è giusto ed è giustissimo che ci sia, perché se noi riusciamo a mantenere le curve epidemiche basse, cioè se riusciamo a mantenere pochi contadeggiati, le strutture sanitarie riescono a rispondere meglio ai problemi di salute della gente. Perché poi c'è l'altro problema che dobbiamo tenere bene in considerazione, che sono gli effetti collaterali. Perché se io intaso alle strutture sanitarie, creo delle difficoltà alla cura, alla diagnosi, alla prevenzione di tutte altre patologie. E quindi va a finire che l'elemento Covid diventa con causa di una mortalità o di una cronicità che dipende dal Covid. Ma non perché è stato il Covid, ma perché il sistema sanitario non è stato in grado di intercettare patologie croniche in maniera precoce e quindi creando dei malati cronici, dei malati che poi possono essere, pensiamo ai tumori, agli screening, e pensiamo a tutte quelle che sono le patologie dal diabete croniche e che possono essere trascurate a causa del Covid. Quindi sì, il decreto è diventato un elemento necessario, con alcune cose che io francamente faccio fatica a capire. Non capisco perché si possa andare a pranzo e non a cena in un ristorante. Perché quell'orario delle 18, qualcuno dice, per gli EPA, per evitare gli EPA. Forse bastava incentivare un po' i controlli. Io penso ad una realtà come quella di Fano, che quante strutture avrà, quanti EPA, quanti locali da EPA avrà. Non penso che dovrebbe essere un problema controllare se sono 10 o 15 locali e questi 10-15 locali e lasciare... Perché quando si fanno dei provvedimenti, secondo me, devono avere una logica che venga capita facilmente dal cittadino. Perché se non viene compresa, è chiaro che nasce una difficoltà nell'accettarla e quindi bisognerebbe spiegarla. Io francamente, tra prendere un caffè prima delle 18, dopo le 18, ma alla mia età io non faccio EPA, non lo capisco. Probabilmente il provvedimento è legato a questo elemento di evitare sovraffollamenti fuori dai bar, ma già c'era un decreto che diceva che non si poteva consumare in piedi al di fuori dei bar o degli EPA, insomma. Quindi bastava fare dei controlli da questo punto di vista o forse lasciare, ma questo io non faccio il decisore, però questo è e questo noi dobbiamo accettare perché è fondamentale e mettiamo in gioco oggi quello che sono le attività sociale ed economica dei prossimi mesi. Si sta avvicinando il Natale. Probabilmente questo provvedimento, così come è stato anche spiegato, serve ad attenuare le curve epidemiche e quindi con responsabilità dobbiamo accettarlo, in modo tale da poter passare quella che è la parte natalizia in maniera un po' più serena e tranquilla. Tenendo ben presente che la paura e l'ansia sono per me dei fattori di rischio estremamente importanti che incidono sulla salute delle persone. Quindi bisogna sempre mantenere un atteggiamento più possibile di serenità, facendo comprendere ai cittadini, perché questo è l'elemento vincente, perché ci sono certi provvedimenti, a cosa servono e la loro utilità, altrimenti si crea confusione.